E ciao ragazzi, benvenuti su un altro episodio di Factions, siamo su Heroes PvP ragazzi Oggi vi porto un po' di clip del mondo Factions e sono insieme agli iscritti come al solito qui Heroes è stato resettato, lo shop è rifunzionante Sono stati aggiunti dei plugin riguardanti gli stacker dei mob, ovvero i mob sono diventati stackabili Questo cambia la modalità leggermente e in poche parole riduce il lag ma in un altro canto cambiano i modi di fare i grinder Quindi ragazzi spero che vi piaccia il video di oggi Vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, un bel commento se vi piace la serie, con cosa volete vedere E niente ragazzi, buona visione, guardatevi il video di oggi Ok Come si dica Andrea sotto YouTube? Ci offende Dove andiamo di bello quindi? No sono 3 cast perché dici che l'hanno di fare Fammi vedere Beh anch'io Devo assolutamente comprarmi altre enderpearl Eh non ci sono ancora lo shop Ma Mattia se ne è dato? Non lo so Chi è quei invisibile? Sono mutati, non so perché Ah, dove sono? Ma chi è quei invisibile, regà? Dove sono le enderpearl? Eh non credo ci siano lo shop Andrea, quindi dove è quei invisibile? Dove sono? Qua blu è Oh Hanno messo le enderpearl Su dove? Se hanno messo le enderpearl è già una rivoluzione Ah il primo slot, hanno messo le enderpearl e diamoblock Oh i diamanti li posso vendere? Tanto l'avranno già fatto Sì Ho finito i soldi però li ho presi Ok Ok Questo è 3 chess qua Non vorrei essere negativo Ma secondo me sono già arrivati Però Secondo me non c'è niente Non nasconde me Arriva qua il claim Sì Arriva qua volendo Ci mettiamo poco a raidarla Aydam me leva di mezzo le scadere Perché ti ho dato l'endere per te la tirare a te Eh no Io sto qui adesso Aydam ma è rotto Perché io salgo con i miei metodi Sto qui Raga calmini Ah ma questa è quella che volevamo lasciare a blu E poi l'hanno griffata Non so chi Giaccia che griffata Era piena di blocchi di diamante e di ceste E poi non so perché l'hanno griffata Sì De che l'hanno trovata Prima di lasciarla I ricordi enti sono enti schifose Grazie Adesso ci muore da solo Fate Fate una slab No Anzi Faccio una slab Andate a comprare un secchio d'acqua No Anche se c'è l'acqua Tu puoi venire a sparare Mancano le TNT Allora Vado io a vedere se c'è l'ha Home Io ne avevo una decina ma mi sa che ci sono morto Ce ne ho 32 blu Ce ne ho 32 Esce un bot di gunpowder Dove sei blu? Sono alla home Cercavo anch'io Ho trovato l'accendino Ah no no Accendino C'è quel per noi Oddio Secondo me ne bastano Tre Due dietro Una davanti Ah tieni blu 12 Metti pure Io accendo Se c'è Salire Non si uccide È il mio amichetto Secondo me Dov'è il bottone? È lì Ok c'è su tu Una è abbastata Come erano Ma non c'era roba No non c'era niente C'erano solo una god Dragon E destructor Ti tiro su Lucius Io ho della su prima Non so se le ho prese Dalla Dalla cassola Io direi che era Ah hai trovato anche Destructor lì dentro Questo è tutto quello Che ho preso Allora è valuta Comunque la pena La exo non la voglio Se vuoi prenditela A sparto Neanche Ok Perché cado sempre Il resto lo tengo I rombi Ok lì nei paraggi C'è qualcosa Adesso diamo un'occhiata Benvenuti ancora Grazie ancora Per tutti gli iscritti Che arrivano ogni giorno Ragazzi Oggi non so cosa vi porto Su Tarest Ma godetevi il video di oggi Credo di essere Insieme a un po' di iscritti Vi porto qualche raid Ma che sfiga oggi E dove li hanno messi Andrea Cosa ridi Se ti serve un home Ti posso zippare No 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 me l'ha data Titan Me l'abbiamo fatta Titan Ah si dammi anche l'altra Però voglio Vorrei anche l'altra Ecco Aspetta F di sbaglio Ah si scusa Aspetta blu Un attimo Che l'aglio Eh ti hanno tolto gli spawner Però le casse ci sono ancora Che? Tu Stiamo griffando Stiamo griffando arambe Sono vuote Sono vuote Raga ha detto blu Che non è vero Quindi Sono vuote Andrea Ah spawner Ci sono gli spawner Sono entrato Dove sono Andrea Ci sto coinvitando Raga ha detto blu Che non è vero C'è un beacon anche Dove sono Andrea Gli spawner Quanto vale un beacon? Non va bene 400 dollari Meno 4 Blu accetta Che ti piace Io mi sto prendendo item Ok Ragazzi io mi sto prendendo item Però non ti pare nessun item No ma si è tutta la resta Blu Siamo qui Siamo i barboni Ma io Io ho più home Quindi vivo sia qui che là Hai capito? Oh questa la claimiamo Blè Questa la claimiamo Ci riclaimiamola Incredibile che questa base Sia ancora viva dopo Eh lo salvato Dopo il mio furto di account L'ho trovata abbandonata Poverina Così Però è È ancora piena Se non sbaglio Sì sì Che ne rispone Dele un golem blu È incredibile Questa Mattia Quanto è durata sta base? Quanto è durata sta base? Ah quella gigante? Sì È ancora qua Cosa? È ancora qua È salvata Mattia L'ho salvata Cioè sono tipo Un anno Quanto è che è qua sta base? Sì sì Qui è pieno di prot 4 ancora Questa base ha un anno Sì Io non so se ti posso tippare Ti posso tippare Ti possiamo tippare Quella di item Quella di item Sì ma questa Questa base qua è storica Sì lion ti tippiamo Seriamente è ancora viva blu Sì Eh sì Un tipo da andrea 4 da azeron E con l'homo di esito Come F-home Wow dove siamo andrea? No fra non settarsi a F-home Per favore Odio Chi si si è tappo Non si è tappo No F-home Una mia altra Ah è tipo un altro piano Era il piano di sopra Se la trovano Ci spanchi No raga Settatevi F-home Così altro sia Vabbia Wow Ti serve un still touch pickaxe Andrea Guarda un po' di cosa Ho 8 milioni Grazie a te 8 milioni e 250 Vado a prenderla Mi ritippo Ombi Perché mi Aspetta Ma fanno anche in stanza Ma io Mi dite cosa In quale ombi Dovrei vivere In quella Che ha creato item Vi è il regalo Sì sì Guarda item Ho visto questa Ha regalato È una bella base Quella a cui ci stiamo tippando No non è bella base Quindi è bella Oh per l'inizio Io all'inizio C'avevo Uno spawner solamente Oh muto Volevi stare Però ce l'abbiamo un still touch Mattia ce l'hai un still touch? No io non Cioè non so Ma anche se C'è il più di tale Sì Mi sa che deve Zip Cioè no lo inchanto Tanto è 20k Item vai a claimare per favore Oppure la claimo io Mi preoccupa Come lo chiamo a sto video? La base che non fu raiata Per un anno O Inside raid Sì così Che bagno No deve essere epico Deve essere epico Ah l'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Andre Di chi è sta home? La è Arambe Comunque è la home degli arambe E' anche un altro buon tag Perchè Andre è uscito A Boh Se io non fossi messo Nei tuoi video Blu Secondo me non avrebbe un senso I tuoi video No è vero Tu sei Il focalizzatore Blu comunque C'è un tocco di velluto E' più C'è 5 se ti serve L'ho trovato uno Ne avevamo alla base di item Ah vabbè Grazie Ah ok Mi c'è Tienilo Perchè? Ah grazie Blu Che hai combinato? Di spawner Non si possono Oppure su Talos Vi ricordo Eh l'ho fatto fuori dal botter Ah ma non era un inside raid No no Era un amico mio Quindi il claim E' qua tutto arambe F map Sì sì Blu Tutto Tutto A sud è libero F3 Però Nord Da chi mi posso Venire Dai Dai gatti Ah bene Perché i cani sono occupati Ti invito io Andre È vero Blu Mi invito Andre F show Arambe Verissimo Ma mi sai che C'è il moderatore Ci sono dei membri online Comunque Ma Ma Aita mi metti il moderatore per favore Omo Quando Ehm Non so Capo È blu Il capo Ah Ah Perché mi hai messo capo Non volevo essere capo Ti rimetto capo F Ad Adesso Adesso Mi sa che io girovagando trovo una base Girovagando Peni No No Non lo so Uè Ti ho invitato Andre comunque Adame mi inviti per favore a questa base No però poi in tutti i miei putt 4 Comunque ragà il colpo di Azza non è No Lasciano neanche due o tre Tanto l'altra base è pieno Tranquillo Qual è? Questa hand dovremmo grippare Adesso di lasciano neanche 4 Questa base dovremmo grippare Però io c'è sti arambe Magari Lo conosco Arambe no perché Io alle mazze lo conosco Ma non mi ricordo se è cattivo o buono Nei miei confronti No è cattivo È cattivo o è buono Perché non so se Non mi ricordo Credo sia cattivo Comunque ragà per chi voleva Vole 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 Questa è stata nuova Umo Eh? Questi Ghi Cornetti E marmellate Vedi da in faccia Comunque Tarslag ha più di Eros Per dire TPA Aze No non sono facilmente Overclaim abili Le casse non sono Water protected Però Grazie Boh Sono Come fai a sapere Che sono vuote Ma non puoi minare Gli spawner Non capisco Ah ma si qui Aze Questa è raid Ma lo sanno Che li hai raidati Andre Che li tradisci Sì No volevo dire In poche parole In poche parole Volevo dire Se tippiamo Tipo Koon Che non sa niente Gli diciamo Oi ma Vuoi Vuoi Dividerli Spawner Con noi Tipo scanto te Accenta o meno Boh dipende Dalla sua lealtà Verso la sua fazione Non ho capito Io Volevo dire Giorno Quindi scriviamo Quindi scriviamo Scriviamo A Koon Tipo No no A Koon Scrivo A Koon Ti abbiamo raidato Mi sembra Chiede di essere tippato Sì Parlo tanto Siamo innazati Aspetta Ti tippa Avvisi Il tuo owner C'è Tantipati Andre ma stai senza pantaloni Non pago Pago nulla Solo Ok Chi vuole tippare Sì tippita ma Blumo non va bene Cioè Io ti hai scritto Non ho nei pantaloni Lo so Non va bene Ma zia Vieni Così Se c'è Mi piace La stagione qua Vabbè Io vedo due Io vedo Andre e Alze qua C'è Andre e Alze Aytam dove sei Aytam viene Aytam sa crema Arrivo pure io Arrivo pure io Arrivo pure io Arrivo pure io Da che mi tippo Dal cane Ciao cane Appena Appena arriva Mettetelo in città E qui siamo a sottare Subito Non si sta tippando Questa Un'agenda Ah no Oh Che ritardato Che cavolo Ne da Sì tippato Sì tippato Sì tippato Sì tippato Mettere Dove E qua Ok Dimmi che si cittiva No no Ci ho accettato Dove sei Ah sono in ct Gli scrivo Sì sono in ct Colpi Andre Continua a colpire Con i pugnetti Finchè non Adesso mi scrive Anche con Attenzione Che qua Potrebbe scoppiare Ma Sì vorrà Che Dammi Grazie Ok Ah mi sta picchiando Mi sta picchiando Lo sapevo Ma tanto Lo calo Il threat Ma sì dove va Questo qui Con il mio pet Al massimo Oh ma zia Ma io ti invito Perché non hai joinato Adesso ci copriamo Aspettate Io ce l'ho In A zero Ma sì perché Mi hai Tra l'altro Mattia quella base verde L'hai creata tu Sì È vero Ti rendi conto Che quella base Lì l'hai creata tu Ancora Ma vedi che Le cose che ci durano Sempre molto Non so il suo piano Qual è stato Nell'entrare In questo In questo Scontro Ma Morrici Non è che C'abbiamo i pet Che abbiamo Un'opera Non ci capisci Niente Ah è vero Forse non ho il pet Non lo so Come si è convinto Che il pet Raga Pet Pet here Pet away Pet away Pet away Ok 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 Sta focussando Ma non so Per tutto staccare La rack è vero La gawa Madana è un Velocissimo Eh cerchia Velocità 4 Come tutti noi Perché ho messo Velocità 4 Perché Infatti pure Perché Guarda Non ci capisco niente Tutto Ma tranne Velocità 4 Guarda Non cazzi Dai devo togliere il pet Dai Zio 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 Pera E vai Oh Arrata Arrata il metto Dove sei C'è nel secchino Ok ho cambiato Ho fatto pet Ieri Anch'io Adesso Faccio un male cane Un male cane Ahia Il povero cane Vabbè Dai Era brutto Sta battito Ma Ma Blu ha la mucca Non ha il cane Blu ha un fratello Subatico Blu ha un fratello Subatico Ogg per quanto Sta resistendo Purtroppo Poteva non Non fare pvp Nel senso Non avrebbe avuto nessuna Poteva A collaborare Esatto Ma i spawner Questo serve Come si prendono Le mani Overclaymando Ah Lui ci si Credo avesse Una pro 4 Credo Sì avevano Forse Noi Voi Come era Dov'era Che si riparavano Le armor Warp Fabro No Blu No Blu Anche Warp Fabro No Ma tu non so Che è successo Ah no Non c'è il back Raga Non venite tutti C'ha itamla C'ha itamla C'ha itamla Sono anch'io E' tpia Itam No Blu Non c'è successo Che è successo Cosa Adesso 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 Si è vero Nulla di grave Sicuro Al cento per cento No seriamente Sono serio E mo' come facciamo E mo' come facciamo C'è successo C'è successo Non è successo Per cinque Ci hai picchiato Ci hai picchiato tu Mica noi Scrivi ci vuoi guadagnare qualcosa O no Si Che ha detto che sei arrabbiato Perché lo tenevamo in ct Eh oddio Dilli è una cosa normale Non è che ti facciamo tipare Per tutta la tua fazione qui Blu Ok E qualche suggerimento Per il tuo 99 Nome youtube No Se dovresti Chiudere il canale Per come O se mi piace La tua intro Blu Si Ti prendo a girataio Ti prendo a girataio Cun Cun mi ha scritto Ciao Ti prendo a girata in testa Insieme a Diego Con il caffè in mano Perché E chi è E chi è Diego Chi voleva sapere Come Chi voleva sapere Come Si Diego È tuo fratello Chi è Diego Non è vero Si Ah ecco perché L'aggapo Quando diminuisco Il distal Trendering La tua base Sarri Cun mi scrive Bella youtube Cosa Si Sto scrivendo Al cun Cun mi scrive Bella youtube E io mi iscritto Sono la tua base Sarri Non lo so Non uccidete Non fanno Non iscritto Basta zitto Uccidete gli iscritti Di blu Che sono tutti Cattivi Ma perché Perché si No Non ucciderlo Mattia Poverino No basta Basta ragazzi No sul serio Allan Ecco se n'è andato Andrà a fare bombe Ha slogato Vedo Sì Oppure se n'è andata La sua Le bombe Le bombe Le bombe Non si bombano Le bombe Non si bombano E per show Arameb Ha detto Solo bella tubo Vabbè Bella cool Oh Chiediamo Dalla mazza Chiediamo Dalla mazza Dalla mazza Secondo me è cattivo Io gli scrivo Vabbè Tanto E' l'ultima L'ultima 3 su 3 Cos'è Cooler Alla mazza Chiedi Alla mazza Blu Kun vuole entrare in fazione No no Mi fido Troppo E' troppo No Kun non entra in fazione Kun non entra Ma come si fanno facili Qui i soldi No La mazza è uscito No Poverino Meglio E' colpa Non ci possiamo sippare Da poi E' bombardare Tutti Trolli Tutto Motor Se Oppure stai guardando Quell'X3 Qualcosa Vi chiedo se ho nato Dice che non è la sua mod E' andato E' ho nata E' andato Grazie a tutti.